Qua c'è un pompa, è una R, vabbè va bene, pensavo fosse un pompa, mannaggia a me Qui, 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 qui Prendi un altro K Qua un pompa, te prego Un altro K Siamo a 3K signori, ci trovo il quarto urlo Qua signori, attenzione, vediamo un po' Oh, non ci credo un altro assalto Come stiamo un po' esagerando direi con gli assalto, non trovi? Oh No vabbè No, regà siamo, siamo a 5 5 Vediamo veramente Sai, 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 sai a campo Sai a campo, basta